University Day, cosa proporrà il CUR per il nuovo anno accademico? Intanto sarà la possibilità di tornare a svolgere questa importante iniziativa che è un po' la nostra vetrina in presenza dopo due anni in cui per le vicende legate al Covid non è stato possibile, ma io lo so svolto online con buoni risultati, ma evidentemente la possibilità di tornare in presenza con i nostri etenei, i nostri corsi, i nostri ragazzi, sicuramente è un momento che ci gratifica e sarà un momento importante per tutti noi. Per il CUR la possibilità di manifestare tutte le sue realtà e potenzialità e la volontà confermata di presentarsi all'esterno come un polo della formazione, giovane, attrattivo, di riferimento, io direi non soltanto per Rovigo, per il Polesine, ma anche per il Veneto e oltre. In una fase storica, insomma, avete capito, impegnativa, ma che ha visto anche novità interessanti come ingegneria, l'apertura di Palazzo Ange, ormai fino al 2019, lo studentato, una serie di novità importanti che noi presenteremo alla città, agli studenti e al mondo che sta fuori. University Day, anche Scienze dell'Educazione apre le porte ai futuri studenti di Rovigo e di altre città. Cosa ne pensate dell'Unione dell'Università di Padova con il CUR di Rovigo? L'Unione dell'Università di Padova con il CUR di Rovigo è sicuramente fondamentale e ci sta molto a cuore. Io rappresento appunto il corso di laurea in Scienze dell'Educazione e è notizia, è noto a tutti appunto, Giurisprudenza con sede a Ferrara e da qualche anno anche qui a Rovigo. Cosa ne pensate di questa unione fondamentale per la nostra città? Noi siamo qui a Rovigo da oltre 20 anni, dal 2019 anche in questa magnifica sede di Palazzo Angeli, che è la sede appunto del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara, dove teniamo il nostro corso di laurea magistrale in giurisprudenza. Si tratta di un'alleanza, quella tra Unife e Rovigo, che ha avuto grandi risultati e nell'ambito della quale il corso di laurea che offriamo, oltre alla magnifica sede, dà la possibilità agli studenti di essere veramente coccolati. I numeri sono tali da permettere un rapporto molto personale con i docenti, con il personale amministrativo e di avere tante opportunità di crescita diverse dal solito, sia per quanto riguarda le opportunità di internazionalizzazione del percorso didattico, le borse di studio che mettiamo a disposizione per i nostri studenti eccellenti nell'ultimo biennio della loro formazione, le tante attività che possiamo realizzare nell'ambito dei finanziamenti che abbiamo ottenuto dal Ministero nel bando Dipartimenti di Eccellenza, che abbiamo riottenuto per la seconda volta quest'anno. Siamo l'unica università presente in Veneto che ha avuto questo finanziamento per gli studi giuridici e quindi siamo particolarmente orgogliosi di questo, doppi titoli, diritto in azione, tante attività pratiche che insegnano ai nostri studenti non solo lo studio teorico del diritto ma anche le competenze che servono per poterlo praticare in concreto, cliniche legali, laboratori di scrittura e molto molto altro.